Se il Titanic affondò per errori di progettazione, prima ancora che per l'impatto con un iceberg, ecco che il sistema pensionistico italiano sembra collassare su se stesso come un gigante sconfitto, imponente e pure impotente di fronte alle esigenze di conti, bilanci, cittadini. Il giornalista e scrittore Sergio Rizzo attacca così un'altra casta, non meno potente di quella raccontata nel bestseller, che all'epoca scosse la classe politica. Eppure i poteri restano tanto forti, quanto poco credibili, così come i problemi, così come quel tetanice delle pensioni, come quello stato sociale che si sta affondando. Perché c'è un problema di progettazione a monte, è un sistema che si basa su un meccanismo, quello della ripartizione, per cui le pensioni vengono pagate da chi sta al lavoro. Il problema è che se quelli che stanno al lavoro diminuiscono di numero e fanno lavori sempre meno remunerati, sempre più intermittenti, sempre più precari, ecco che ci sono sempre meno soldi per pagare le pensioni. E siccome questa tendenza non è una tendenza che si può fermare con un schiocco di dita, né con un fantomatico progetto di rilancio della natalità, per riportare il tasso di popolazione italiana a dei livelli tali da sostenere un tale macigno di spesa pensionistica, ecco lì che la matematica poi alla fine non mente. Non è mancato nell'incontro di Castello Imperiali anche un confronto con il pubblico, tra caste vere o presunte, tra idee diverse, opposte, inconciliabili, tra le preoccupazioni di un futuro che di base neppure esiste. affondato come il tetanice sotto il peso degli errori e dei privilegi.